Che devo dire, quello che ho sempre detto e dirò sempre, Luigi De Magistris è una persona che non violenta, quindi ogni manifestazione, purché caratterizzata dalla non violenza, sono manifestazioni che fanno parte del pensiero democratico del nostro Paese. Di fronte a fatti così gravi io credo che l'indignazione, la ribellione, la protesta sia non solo un diritto ma sia anche un dovere. Trovo assolutamente sbagliato scagliarsi nei confronti di una persona che vuole prendere la parola durante un dibattito e viene definita in un certo modo perché protestava perché questa terra è stata martoriata dall'emergenza rifiuti, dalla terra dei fuochi, dalle morti che ci sono state e quindi di fronte a questo che ci sia qualcuno che anche con modi accesi e con contenuti certe volte un po' effervescenti si rivolge all'ordine costituito chiedendo risposte. Quindi questa è la mia valutazione da sempre e che sempre farò. Quindi tutto ciò che ha una caratteristica di violenza non ha mai il mio plauso. Tutto ciò che invece ha la caratteristica della indignazione, della protesta e della ribellione pacifica su temi come questi ha il mio apprezzamento. Non sono camorristi giornalisti, le domande le dovete fare a De Lugge. Non sono metodi, forme che condivido nella maniera più assoluta. Ognuno si esprime come ritiene e quindi la domanda va apposta a chi ritiene di farlo in quel modo. Io ho un altro linguaggio, un altro contenuto, sono un uomo ma anche verbalmente. Quindi il dissenso lo si può esprimere in modo molto netto e su Renzi ci sono tanti argomenti per esprimerlo ma senza cadere poi in atteggiamenti e modalità che non sono condivisibili e che quindi non possono essere sostenute da chi rappresenta le istituzioni democratiche del nostro paese. Voi mi state chiedendo a me, Luigi si è uno delle istituzioni, immaginatevi se io vado con la cosa così non sarebbe accettabile. Poi nel mondo esiste la satira, sulla satira ognuno la può pensare come vuole, sulle inchieste giornalistiche se si utilizza Nunzio ognuno la può pensare come vuole. La valutazione di un fatto non ha lo stesso parametro se chiedete al sindaco di Napoli come lo deve giudicare o a un candidato premier come Luigi Di Maio oppure a chi fa satira, oppure a chi fa... sono comunque valutazioni differenti. Io, Luigi De Magistri, da uomo delle istituzioni, chiaramente non mi sognerei mai di fare un'operazione di quel tipo, così come certe volte si legge una satira, che è una satira anche molto dura, io seguo i social, ci sono certe volte delle cose che so... poi su che cosa simpatica un maiere, scusate, ma hai fatto un sacco di satire che circolavano video che erano improbabili di fare le risate, cioè fa parte un po' della satira, così come Salvini, Salvini sta col Vangelo, forse qualcuno, ho detto pure adesso, gli ricordasse in qualche modo che è stato scritto da extra comunità, le cose certe volte si possono dire anche in modo molto forte senza rischiare comunque di essere equivocati, anche da parte di chi fa satira, perché poi non possiamo nascondere che viviamo un momento brutto, cioè che il clima è brutto, c'è un clima di rancore, di violenza verbale, la campagna elettorale è stata tutta questa, allora probabilmente io sono per esprimere il dissenso in modo molto forte, certe volte lo si può fare anche in modo ancora più forte di come sta avvenendo in questi giorni, rispetto per esempio a queste vicende gravissime che sono uscite fuori da Fanpage, evitando certe volte di fare qualche errore come può essere una satira che non tutti comprendono.